Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR, il video di oggi nonostante io non sia assolutamente al meglio delle mie condizioni, sarà comunque un video speciale perché andremo a fare un eating celebrativo, quindi con un dolcino con candelina per appunto festeggiare il nuovo traguardo sul canale, quindi il traguardo dei 6.000 iscritti, c'è voluto un sacco di tempo in più rispetto al previsto per raggiungere questo numero perché ho decisamente diminuito la quantità di contenuti registrati e pubblicati quest'estate, il che ha appunto rallentato il tutto, però ecco ora ci siamo e quindi vi registro il video, sono davvero tanto tanto felice di poter finalmente registrarlo perché era da un sacco che aspettavo. in questo caso qui abbiamo come dolce un pangocciolo di gusto, cioccolato bianco e pistacchio che si è un po' schiacciato nel tragitto verso casa, addirittura ci ho messo anche su una candelina e ora la accendo, quindi ecco questa volta mi sono attrezzata un po' meglio delle altre, vedete? è un bel pangocciolo di madre, il cioccolato bianco e pistacchio si è soltanto un po' scravazzato, ero indecisa se prenderlo così oppure con la crema Kinder Bueno che pure è buonissima, poi mi sono attrezzata addirittura con la candelina e infatti adesso vado a soffiare. tanti auguri a noi per questo ulteriore passo avanti e traguardo, tolgo la candelina e inizio a mangiare questa goduria, come vedete l'impasto è bello bello morbido e anzi è uno scaldato, però questo è il ripieno. purtroppo Madrem che è il mio fornitore da sempre per sempre di pangoccioli ha iniziato a farli un po' più piccoli e di anno in anno ha ridotto le dosi, però sono sempre molto buoni e quindi continuo a comprarli, poi è da quasi un anno che non vi porto un pancocciolo, questo è l'interno per chi non fosse abituato ecco, è bello carico anche perché è bigusto, cioè i pancoccioli di solito hanno un gusto solo, tu paghi l'aggiunta gliene e fai mettere due, tutto il pistacchio mamma mia! e allora poi purtroppo finisce che registro sempre heating quando sono in condizioni pessime, tipo oggi che sono stata un'ora e mezza in palestra ad allenarmi, poi sono uscita e senza passare da casa sono andata direttamente a comprarmi pizza e pan gocciola, la pizza l'ho già mangiata, questa è il pan gocciola, per la serie rendere inutile l'allenamento, andando proprio senza passare dal via, la madre però oggi è sabato e vengo da una settimana in cui comunque ho mangiato bene, quindi è il mio scarro della settimana ultimo morso, vedete quanto è pieno buonissimo, sempre buonissimo, sempre una garanzia, non ne mangio adesso da un sacco di tempo di pan gocciola, penso da luglio, quindi veramente tanto tanto tempo, ho solo perché non sono stata a Roma per mesi, altrimenti i tempi non sono mai così lunghi mi piace anche il suono del pan gocciolo perché io a livello di heating preferisco i suoni di cibo morbido rispetto che il cibo troppo crunchy, quindi il pan gocciolo che è molto morbido mi piace a livello di suoni ragazzi io vi ringrazio ancora per il raggiungimento di questo traguardo importantissimo perché è un altro passo avanti verso il vero grande traguardo che ho al momento per il canale a cui non so se arriverò mai, però sarebbe il raggiungimento dei 10.000 iscritti so che ancora la strada è molto molto lunga, anche perché io sono una tra tantissimi smr artist e intanto non sono la più brava, poi sicuramente non sono né la più professionale né specializzata in qualcosa in particolare, cioè molti nel mondo dell'SMR, magari più all'estero che in Italia la buttano molto sul sessuale, cosa che chiaramente non è di mio gradimento e questo ovviamente facilita l'ascesa di molti canali poi ci sono le voci maschili che sono merce rara e quindi generalmente se un ragazzo apre un ragazzo, un uomo, apre un canale ASMR è molto più facile che aumenti di iscritti rispetto a una donna perché ce ne sono tantissime di donne e poi appunto non ho una caratteristica peculiare perché non faccio un sacco di tipologie di video che mi mettono a disagio tipo i roleplay, ne ho registrati tantissimi negli anni però ne registro veramente poco perché non mi fanno stare serena le cose appunto in cui io mi prendo cura troppo delle altre persone non mi piacciono perché mi ricordano qualcosa di un po' appunto sessuale e non mi interessa e in generale appunto un sacco di queste cose che a me non piacciono vanno molto nel mondo dell'ASMR e io non le faccio quindi mi rendo conto che la mia scalata sarà molto più lenta se mai arriverò appunto a 10.000 iscritti non è manco certo però comunque noi siamo qui, combattiamo io non smetto, sono sempre qui che registro escono 3 video a settimana sul canale ed è un impegno per me però lo faccio con davvero tanto tanto piacere detto ciò io vi prego di perdonare le condizioni discutibili però ripeto oggi sono stata in palestra e ho provato cioè mi sono stata allenata da un personal trainer diverso rispetto a a quello delle altre volte e quello di oggi mi ha fatto ho capito il senso dell'affermazione su dare poi l'acqua del battesimo perché mi ha devastata infatti ho finito di registrare e corro a farmi una doccia shampoo perché vi giuro mi ha distrutta oggi è già stato un allenamento porca miseria domani non cammino non muovo le braccia domani sto a letto che è meglio mettiamola così però tanta tanta soddisfazione proprio per questo e infatti mi sento un po' in colpa per quello che ho mangiato però ripeto a me stessa che comunque ci sta anche questo ecco non posso mangiare sempre pulito e quindi con questa scusa che ho già preso il pizza e pancoggio ho deciso di appunto registrarvi questo video che per me è molto importante poi mi sono messa a chiacchierare l'altro però ci tenevo proprio a registrare un video che fosse uno speciale per i 6.000 iscritti e quindi ragazzi a tutti quelli che sono qui da tanto tempo grazie perché non mi avete abbandonata per tutti quelli che sono nuovi e che mi hanno permesso di raggiungere questo obiettivo grazie vi sono tanto grata perché vi do il benvenuto ufficiale e vi sono grata perché senza di voi non sarebbe stato possibile il raggiungimento di questo nuovo traguardo detto ciò io spero che il canale prosperi e vada oltre io il mio impegno glielo metterò voi mettete impegno anche da parte vostra e ci aggiorniamo io ripeto escono tre video a settimana quindi vi ringrazio per aver scelto di guardare questo vi saluto ringrazio in anticipo appunto tutti quelli che sicuramente mi faranno gli auguri perché siete così carini che io ci metto la mano sul fuoco che mi arriveranno un sacco di auguri a cui risponderò anche per iscritto però ogni volta che succede qualcosa del genere vengo inondata di effetto quindi ringrazio tutti in anticipo e niente vi dico che ci vediamo direttamente nel prossimo video ciao a tutti e grazie ancora per questo fantastico fantastico traguardo che senza di voi non sarebbe stato possibile raggiungere grazie a tutti